Stai andando da Corrado? Ma dove siamo finiti? Don Marco, ma sono tu? Sono sei anni che non metto piede qui dentro. È casa sua e anche se a te il posto fa schifo, rimane sempre il luogo dove è nato e cresciuto. Non ci credo. Corrado, sei diventato un barbone. Ti ho persino dato casa mia per dimostrarti che volevo aiutarti. Quello era Corrado. Molto perspicato. Che diavolo gli è successo? Ero preoccupato per te. Siamo venuti sopposta per scoprirlo, no? Questo un giorno ha preso e se n'è andato. Non ha detto dove, non ha detto perché, non ha detto nulla. Siamo qui per litigare. Non so tu, ma io sì. Corrado, te ne sei andato senza dire niente a nessuno. Sembra una cosa normale. Quindi tu dici che non vuole vederti?